Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Provate il nuovo servizio di montaggio SMD beneficiando di uno sconto di 7 dollari sulle spese di montaggio. Ciao a tutti! Prima di iniziare qualche raccomandazione. In questo periodo aderiamo tutti alla campagna Io Sto in Lab. In pratica stiamocene a casa in isolamento che tanto il laboratorio si sta benissimo. Così contribuiremo al contenimento del virus. Poi volevo dire che col programma Patreon ho deciso in questo periodo di devolvere i pledge che arrivano dai Patrons, che ringrazio ovviamente come sempre, verso la protezione civile. Esiste un IBAN dove è possibile effettuare delle donazioni per materiale medico e aiuti in generale. Quindi sappiate che aderisco al programma con il vostro supporto e vi ringrazio tanto per questo. Veniamo al video di questa sera. Nel video 556 abbiamo parlato di filtri IMI quindi per la compatibilità elettromagnetica e tutta una serie di commenti e interessanti spunti hanno riguardato la bobina di modo comune. Ragion per cui questa sera con questi anelli magici andremo a approfondire il concetto di bobina comune, come si costruisce, come viaggiano i flussi, quali sono le tensioni e i limiti operativi. Quindi un piccolo video tutorial a supporto della teoria sul magnetismo. Buona visione! Ripartiamo dalla teoria del filtro IMI del video 556. Avevamo detto che la bobina di modo comune risulta essere un blocco, quindi una alta impedenza, per le correnti di modo comune, cioè quelle che fluiscono in ugual misura da fase e neutro attraverso la bobina e si richiudono verso la terra. Quindi in caso di queste correnti equiverse la bobina costituisce una induttanza abbastanza elevata, tipicamente nel range dei 50 mN. Viceversa per una corrente differenziale, cioè supponendo che una corrente entri dalla fase, percorra questo avvolgimento, faccia tutto il giro del carico, torni da questa parte e rientri e se ne rivada al neutro in questo modo, per una corrente di questo tipo la bobina risulta essere praticamente una induttanza molto piccolina, addirittura quasi zero. E questo è dovuto al fatto che i due avvolgimenti sono avvolti in controfase. Vediamo cosa significa. Per chiarirsi le idee avevo postato sul forum questa pagina di appunti, dove ho rappresentato una bobina utilizzata in configurazione di modo comune. Ora avvolgiamo un filo facendo in modo che guardando il nucleo dalla parte superiore, il filo si è avvolto in senso anti-orario. Quindi se io lo guardo da sopra, questo filo ha un verso di avvolgimento anti-orario. Sull'altra colonna invece, sempre guardandolo dall'alto, il filo viene avvolto in senso orario, quindi esattamente opposto. Questo significa avere una inversione sugli avvolgimenti. Quindi se io ho dato per convenzione anti-orario su una colonna, l'altro sarà orario. Stessa situazione si potrebbe avere orario di qua e anti-orario di qua. L'importante è che siano opposti. Consideriamo ora il caso della bobina di modo comune del filtro IMI. Con questi avvolgimenti fatti in questa maniera, supponiamo poi che gli avvolgimenti vengano richiusi sul carico, che qua non ho indicato. Qua ci andrebbe una piccola resistenza, ad esempio, equivalente. E quindi la corrente che entra in questo filo fa questo giro e se ne riesce da quest'altra parte. Questa, per la definizione che abbiamo dato prima, è una corrente differenziale, perché entra su un filo ed esce dall'altro. Vediamo ora cosa succede dal punto di vista magnetico, e cioè del flusso che si viene a creare dentro il nucleo. Un'eventuale corrente che entri in questo filo produce, per la regola del flusso, un flusso in questa direzione. Corrente entrante, senso anti-orario, il flusso è diretto in questa direzione. Questa stessa corrente, che per la definizione di prima abbiamo chiamato differenziale, perché entra da un filo ed esce dall'altro, quando arriva su quest'altro avvolgimento, esce dall'avvolgimento, questa volta, invece di entrare, soltanto che l'avvolgimento è avvolto in senso opposto a questo. Quindi due negazioni, corrente uscente e verso di avvolgimento opposto, fanno sì che per il flusso prodotto avrà un flusso in questa direzione. Ecco che quindi il nostro nucleo magnetico ha due componenti di flusso che sono uguali come ampiezza o modulo, ma sono opposti in direzione. Cioè, in pratica, si cancellano. Se le cose sono fatte in maniera simmetrica, il flusso sarà proprio zero. In realtà, un po' di flusso ci sarà, datele inevitabili asimmetrie di questa configurazione. Ma, questo per dire che una corrente differenziale in una bobina di modo comune, a volte in questa maniera, produce un contributo netto del flusso praticamente uguale a zero. Questo fatto è molto importante, perché significa che il filtro IMI con questa bobina può sostenere delle correnti alternate, ad esempio a 50 Hz, quando si alimenta dalla rete elettrica, anche molto elevate, senza il rischio di saturare il nostro filtro, perché i due contributi si cancellano. Quindi, da un punto di vista della induzione magnetica B, il nucleo ferromagnetico è magnetizzato praticamente con pochissima induzione per una corrente differenziale che può essere anche molto elevata. Questo, in termini di induttanza, significa che l'induttanza di modo differenziale di un nucleo fatto così è molto piccolina, proprio per questo fenomeno dei flussi che si cancellano. Se invece consideriamo una corrente di modo comune, cioè che entra sia da questa parte che da questa parte, la situazione si ribalta. Cioè, abbiamo detto, la corrente che entra provoca un flusso Φ1. La corrente che entra da questa parte, siccome è il verso opposto, questa volta produce un flusso Φ2 che è orientato verso il basso. Quindi il flusso Φ2 si somma al flusso Φ1 andando a generare un flusso risultante che è la somma dei due. In caso quindi di correnti di modo comune, avremo che l'induttanza della nostra bobina questa volta sarà elevata, perché a fronte di una corrente inducente avremo la creazione di un flusso magnetico proporzionale all'induttanza secondo il numero di spira e la permeabilità. Come dicevamo, i valori tipici di queste induttanze per la bobina di modo comune sono dell'ordine dei 50 mH. Poi notiamo che questi due avvolgimenti sono distanziati in modo da creare un disaccoppiamento e cioè un'induttanza dispersa, che avevamo visto essere necessaria per avere un contributo anche sulla componente differenziale. Ma in questo caso, visto che abbiamo due bobine che sono accoppiate, dobbiamo prendere in ballo anche il parametro L, cioè la mutua induttanza, ossia il passaggio di questa corrente crea un flusso che influenza anche quest'altra bobina, ed è il parametro M. Il parametro di mutua induttanza è legato alle autoinduttanze delle singole bobine secondo la relazione K radice di L1 per L2. Se L1 e L2 sono uguali, possiamo dire che M uguale a KL. E dopo questa doverosa introduzione teorica, passiamo ora all'azione. Quindi vedremo con misure pratiche il significato di questi accoppiamenti, specialmente per quello che riguarda le convenzioni. Infatti sapete che ogni trasformatore o comunque bobina ha delle convenzioni grafiche con ad esempio i pallini, che indicano l'inizio avvolgimento, fine avvolgimento. Cerchiamo di capire qual è il significato di queste convenzioni e quali sono le conseguenze di un errato avvolgimento. Nei cassetti ho tutta una serie di bobine trasformatori di modo comune, differenziale, con più avvolgimenti già realizzati. Ma per capire bene il concetto vorrei iniziare con un nucleo abbastanza grande, di modo che così sia facile vedere quello che accade, avvolgendo i fili a mano e iniettando dei segnali e andarli a misurare per vedere come si accoppiano tensioni e correnti. Prendiamo un nucleo ferromagnetico ad esempio, come questo anello in ferrite, dotato di una certa permeabilità, cioè in pratica in presenza di campo magnetico, che chiameremo h, un materiale con una certa permeabilità svilupperà un flusso magnetico proporzionale al campo magnetico h secondo la costante di permeabilità mu. Quindi più è alta la permeabilità del materiale, più alto sarà il flusso magnetico che si concatena. Realizzo un primo avvolgimento di sei spire sul nostro nucleo ferromagnetico. Ho messo questo riferimento bianco così non ci sbagliamo con le convenzioni. L'avvolgimento è stato avvolto in verso anti-orario guardando il rocchetto dall'alto. Sono sei spire, andiamo a vedere l'induttanza misurata. 257.1 microenri. Sappiamo che l'induttanza è legata al numero di spire per un nucleo in ferrite di questo tipo da questa formula. L uguale al coefficiente a l per il numero di spire al quadrato. Da questa formula quindi possiamo risalire al parametro a l per questo nucleo che è di 7138 nanoenri su spire al quadrato. ho avvolto 6 spire anche sull'avvolgimento secondario secondo la figura che avevamo visto prima. Facciamo la misura sempre circa 257 microenri. La cosa non ci sconvolge perché abbiamo un numero di spire uguali, fili più o meno uguali e quindi stessa identica induttanza. Ma se mettiamo un avvolgimento in cortocircuito, l'altro, cosa potrà succedere alla nostra misura? andiamo a vederlo. Quindi lanciamo di nuovo la misura, 257, prendiamo le estremità dell'altro avvolgimento e vediamo cosa accade. L'induttanza è crollata perché ovviamente cosa succede? Che il flusso magnetico che si concatena dato dallo strumento viene influenzato da questo che a tutti gli effetti è un carico, per cui l'induttanza misurata risulta essere molto inferiore. Bisogna anche dire che abbiamo fatto la misura, lo strumento la sta facendo a 200 kHz, ci sono diverse frequenze che si possono impostare, ma per questo tipo di ferrite questa è una frequenza che può andare bene. Facciamo ora un primo test utilizzando questa bobina come trasformatore. Quindi andiamo a collegare al primario questo avvolgimento di sinistra una resistenza da 47 ohm e un generatore di funzione. Questa resistenza ci permette di disaccoppiare la sorgente di alimentazione rispetto al nostro trasformatore e andremo a piazzare il canale 1 proprio qua su il primario. Il secondario lo chiudiamo sempre su una resistenza da 47 ohm e andremo a vedere con l'oscilloscopio, col canale 2, la tensione che si localizza su questa resistenza che è la tensione di secondario. Quindi canale 1 e canale 2 mostreranno rispettivamente tensione di primario e di secondario collegate in questa maniera. Considerate che se mettiamo la massa dell'oscilloscopio qui e qui, questi due punti risultano essere in cortocircuito tramite l'oscilloscopio. Ora la domanda da 100 milioni di dollari è se ho gli avvolgimenti in questa maniera come abbiamo detto avvolgimento avvolto in anti-orario guardato dall'alto e avvolgimento avvolto in senso orario quindi opposto a questo sempre guardato dall'alto mi chiedo come saranno queste due tensioni fra di loro? Saranno in fase o in opposizione di fase? Si accettano scommesse. Ecco il nostro circuito i coccodrilli rosso e nero portano un segnale alternato a 10 kHz resistenzina da 47 ohm primario canale 1 secondario resistenzina da 47 ohm sonda del canale 2. Premete pausa e dite qual è la vostra opinione ecco la risposta i due segnali sono in fase frequenza 200 kHz valore rms dell'uscita che è segnata in blu 2.34 valore rms dell'ingresso 2.32 quindi praticamente identici vedete che il segnale è praticamente in fase ho lasciato un po di offset fra di loro per vedere la differenza se li riporta esattamente con lo stesso 0 vedete che praticamente coincidono veniamo ora quindi alle convenzioni abbiamo visto che se applichiamo una tensione v1 con questo verso otteniamo una tensione v2 con questo verso e quindi per convenzione diremo che se piastiamo un pallino nero qua che indica l'inizio avvolgimento il pallino nero lo dovremo piazzare di qua perché troveremo su questo punto un segnale che ha la fase rispetto a quest'altro cioè quando abbiamo il picco positivo di una semionda ad esempio proprio nello stesso momento lo abbiamo anche sull'avvolgimento secondario se guardiamo questo concetto dal punto di vista costruttivo degli avvolgimenti abbiamo detto che mettiamo un pallino qui quindi una corrente che scorre su questo avvolgimento crea un flusso in questa direzione il quale si concatena con l'avvolgimento di secondario e siccome l'avvolgimento da questa parte è avvolto in senso opposto invece di avere il pallino qui ce l'avrà qui quindi su un toroide se facessimo avvolgimenti tutti con lo stesso verso di avvolgimento avremo i pallini tutti nella stessa direzione ma in questo caso visto che è avvolto in senso contrario ce lo troviamo dalla parte sbagliata ora prendiamo questa bobina la ruotiamo di 90 gradi e la colleghiamo in questa maniera in modo che avremo il generatore resistenza di uscita bobina con i due puntini da questa parte e carico da questa parte di fatto questo è lo schema di collegamento che vediamo nei filtri IMI andremo a vedere le tensioni fra l'ingresso e l'uscita di questa bobina anche in questo caso fate la vostra proposta e mettete pausa ecco lo schema di collegamento generatore di funzione resistenza 47 ohm ingresso della bobina vedete che il nostro riferimento è qua quindi abbiamo i due avvolgimenti che sono collegati da questa parte e in uscita resistenza da 47 ohm canale 2 dell'oscilloscopio andiamo a vedere come è fatta l'uscita i due segnali sono ancora in fase visto quindi che una bobina di modo comune collegata in questa maniera come avviene in un filtro IMI ha in ingresso in uscita due tensioni che sono in fase ma come saranno le tensioni su questi avvolgimenti con questo collegamento per vederlo realizziamo questo schema perché ci sarà facile vedere con i due canali dell'oscilloscopio le varie tensioni quindi spezzo la resistenza da 47 ohm in due resistenze circa metà 22 ohm e vado a prendere la massa dei miei canali in questo punto così potrò vedere questo punto di tensione questo punto di tensione che saranno probabilmente equilibrati visto che abbiamo diviso in due questa resistenza e poi andremo a vedere anche questo punto e questo punto per capire come sono rivolte le frecce sui nostri avvolgimenti questo circuito solito generatore di funzione che entra qui vedete che il carico l'ho spezzato in queste due resistenze da 22 ohm e ho messo la massa dei due canali dell'oscilloscopio nel punto comune attenzione perché la massa dell'oscilloscopio non è in cortocircuito con il riferimento del generatore e questo per ottenerlo dobbiamo essere sicuri che le prese di alimentazione del generatore di segnale e dell'oscilloscopio non abbiano la terra in comune per fare questo io ho isolato l'oscilloscopio da terra in modo che questi due punti non sono lo stesso potenziale dunque il canale 1 è sulla resistenza del ramo alto il canale 2 sulla resistenza del ramo basso andiamo a vedere le forme d'onda che si vedono sull'oscilloscopio come ci potevamo attendere queste qua sono in opposizione di fase e hanno due valori rms molto simili infatti il canale 1 ramo alto 1.10 il canale 2 ramo basso 1.15 questa piccola simmetria è dovuta probabilmente alla differenza delle due resistenze da 22 ohm per valutare ora le tensioni sugli avvolgimenti sposto il canale 1 da questa parte il canale 2 da quest'altra parte e andiamo a vedere le tensioni come sono sistemate quindi canale 1 prende l'avvolgimento più la resistenza del ramo alto il canale 2 prende l'avvolgimento basso e la resistenza di ramo basso andiamo a vedere le due forme d'onda sono sempre in opposizione di fase ma attenzione i livelli sono cambiati quindi in un caso la tensione si sottrae in un caso la tensione si somma in particolare vediamo che sul canale 1 cioè ramo alto la tensione è scesa 705 millivolt sul canale 2 la tensione è aumentata ma attenzione essendo in opposizione di fase vuol dire che si è in realtà sottratta andiamo a vedere su lo schema elettrico cosa significa però ricordiamoci questi due valori 708 millivolt 1 volt e 63 ecco la situazione delle tensioni che abbiamo appena misurato la prima misura dal punto centrale ha rilevato una tensione di canale 1 di un volte 10 con questa freccia il canale 2 ampiezza un volte 16 quindi uguale ma essendo opposta diverso ruotata di 180 gradi la freccia va in questo verso rispetto al mio riferimento di massa poi ho spostato il canale 1 da questo punto a questo punto e ho misurato 0 708 quindi una tensione che è calata rispetto a prima poi ho spostato il canale 2 da questo punto a questo punto e ho visto che la tensione negativa di un volte 16 è aumentata come valore rms ma è rimasta sempre negativa un volte 63 quindi significa che la freccia è rivolta verso questo punto negativa detto questo siamo quindi in grado di stabilire il verso di queste due tensioni dal canale 1 se passo da una tensione di un volte 10 a 708 devo avere una tensione su questo avvolgimento che me la cala e quindi la freccia sarà rivolta in questa direzione qua da questa parte se passo da una tensione negativa di un volte 16 a una tensione sempre negativa di un volte 63 devo avere una tensione che si somma a questa e quindi la freccia sarà rivolta in questo verso vedete che rispetto ai due avvolgimenti nuovamente le due tensioni che sono registrate sui due lati della bobina sono orientate nella stessa maniera rispetto ai pallini se vogliamo rappresentarlo con delle equazioni diremo che questa che è chiamata vt1 è uguale a questa tensione che è vr1 meno vd1 quest'altra invece che chiameremo vt2 orientata in questa maniera sarà uguale a meno vr2 meno vd2 questa qua scusate questa è meno vt2 perché ovviamente è orientata di qua quindi vt1 uguale vr1 meno vd1 meno vt2 uguale meno vr2 meno vt2 queste misure e ragionamento quindi ci hanno confermato che una corrente di modo differenziale che percorre questo circuito produce due tensioni che per convenzione possiamo orientare verso il pallino equiverse per fare il contributo di queste due tensioni vd1 e vd2 possiamo scrivere l'equazione della nostra maglia diremo che v in la tensione del generatore è uguale a vrs più vd1 più vl vedete che le frecce sono tutte in questo modo meno vd2 perché la freccia è orientata dall'altra parte se vd1 e vd2 sono uguali in modulo possiamo cancellarle ecco che quindi vedete che le componenti della corrente differenziale su queste bobine si elidono e la tensione v in non è altro che la tensione che cade su rs più quella su il carico rl quindi è uguale a vrs più vl alizziamo ora il comportamento della bobina di modo comune contro le correnti di modo comune quindi la sua vera funzione di blocco per questo andiamo a scegliere un generatore di segnale alternato resistenza da 47 ohm in serie la nostra bobina la colleghiamo in questa maniera in modo che la corrente si divide su due rami e andiamo a richiudere i due rami con due resistenze sempre in maniera bilanciata quindi resistenze da 22 ohm nel nostro caso che tornano alla massa quindi se tutto è più o meno simmetrico potremmo dire che la corrente di modo comune ic si divide in parti uguali ic1 e ic2 e torna a casa e ic è uguale alla somma di ic1 e ic2 che presumibilmente saranno uguali nei filtri emai per rendere uguali ic1 e ic2 si usano i condensatori di classe y che bilanciano proprio la corrente i cariche ci troviamo di fronte a una bobina andremo dapprima a vedere le tensioni a cavallo di queste due resistenze per vedere se le correnti sono equilibrate quindi stessa corrente stessa caduta di tensione su due resistenze uguali poi andremo a vedere la resistenza che si ha all'ingresso della nostra bobina di modo comune e all'uscita se questa è una bobina dovrà operare dello sfasamento fra tensione e corrente ed inoltre andremo a variare la frequenza del nostro generatore per vedere effettivamente se l'impedenza offerta da questa bobina aumenta con l'aumentare della frequenza e quindi in pratica significa avere sempre meno corrente mano mano che la frequenza del nostro segnale aumenta ecco il nostro circuito dal generatore abbiamo la resistenza da 47 ohm la nostra bobina di modo comune che è in comune sul ramo positivo le due uscite vanno sulle due resistenze da 22 ohm e poi con questo filo giallo tornano a massa qua con il meno del nostro generatore avrei potuto anche non mettere questo filo giallo se questi punti del generatore dell'oscilloscopio fossero a massa andiamo a vedere in questa condizione i segnali sulle due resistenze che rappresentano le correnti che stanno scorrendo vedete che sono perfettamente identiche questo significa che il nostro circuito è bilanciato la bobina è simmetrica le resistenze sono simili ora spostiamo il canale 1 dalla resistenza all'ingresso del nostro filtro quindi subito dopo la resistenza inserire l'alimentatore andiamo a vedere le nostre forme d'onda vedete che il canale 1 adesso è molto più elevato quindi dobbiamo attenuarlo un pochino e notiamo anche una cosa molto interessante le due forme d'onda sono sfasate esattamente di 90 gradi cioè quando l'ingresso del filtro ha il picco l'uscita del filtro ha lo zero e questo sfasamento di 90 gradi è proprio quello che ci insegna l'elettrotecnica per una bobina che ritarda la corrente di 90 gradi rispetto alla tensione questa la possiamo vedere come la corrente perché è la tensione misurata sulla resistenza di 22 ohm per cui corrente in ritardo di 90 gradi rispetto alla tensione siamo proprio di fronte a una bobina un'auto induttanza in questo caso poi abbiamo anche il contributo della mutua induttanza un'altra prova che facciamo è variare la frequenza quindi adesso siamo a 200 kHz se aumento la frequenza vedete che l'uscita cala infatti significa che l'impedenza della nostra induttanza aumenta con la frequenza con un fattore di proporzionalità che è 2 pi greco f per l quindi mano mano che aumenta la frequenza più la nostra bobina di modo comune attenua che è quello che avviene nei filtri imi se torni indietro qua siamo circa 1 MHz torniamo alla frequenza di 200 kHz che abbiamo scelto come frequenza di misura eccola qua adesso vado nella parte bassa per le componenti a bassa frequenza vedete che atteno sempre di meno ci posizioniamo ad esempio 10 kHz vedete che l'attenuazione è molto più ridotta cerchiamo questo punto a e questi due punti b1 e b2 siccome abbiamo visto che il potenziale di b1 e b2 è identico fra questi due potenziali c'è una differenza 0 sono lo stesso potenziale ecco che posso dire che questo schema è uguale a una bobina una auto induttanza fra i punti a e b1 uguale b2 perché agli effetti è esattamente lo stesso circuito infatti abbiamo visto che la corrente che scorre nella bobina è esattamente in ritardo di 90 gradi rispetto alla tensione ai capi della stessa calcoliamo ora il valore dell'induttanza sappiamo che c'è una tensione applicata di 6.69 volt e una caduta su una resistenza da 22 ohm di 226 millivolt ho misurato quindi con lo oscilloscopio una tensione va pari a 669 volt e una tensione vb1 uguale a vb2 226 millivolt come abbiamo visto questi due nodi sono lo stesso potenziale per cui la possiamo chiamare vb la tensione ai capi di questa bobina è data quindi che chiameremo vl è data da va meno vb quindi vl va meno vb è 669 volt meno 226 millivolt 6 volte 49 valore di induttanza utilizziamo questa formula sappiamo che l'impedenza data da un'induttanza è uguale a 2pi greco f che è la frequenza per il valore di induttanza quindi l è uguale al modulo dell'impedenza diviso 2pi greco f il modulo dell'impedenza non è altro che la tensione ai capi della bobina per la corrente che ci scorre quindi vl tensione ai capi della bobina diviso corrente il che scorre per 1 su 2pi greco f quindi 6,28 per 200 kilohertz che è la frequenza a cui stiamo lavorando andiamo a sostituire vl è 6,49 volt l'abbiamo visto sopra il è la corrente che scorre nella bobina che è due volte la corrente che scorre su ogni ramo la corrente che scorre su ogni ramo è la tensione sulla resistenza che abbiamo misurato come 226 millivolt diviso la resistenza 22 ohm per questo fattore andando a fare i conti salta fuori 251 micro henry se vi ricordate all'inizio ne avevamo misurati 258 con l'induttanzimetro a 200 kilohertz quindi come vedete abbiamo ottenuto nuovamente il valore di induttanza di una bobina di modo comune la cosa particolare è che noi vediamo il valore di induttanza su di una bobina equivalente con i due avvolgimenti quando avevamo visto che il singolo avvolgimento aveva proprio quel valore di induttanza ma ricordiamoci che sulla bobina scorre la corrente su ogni ramo vediamo ora una bobina di modo comune commerciale come facciamo a capire che questa è di modo comune alcuni costruttori riportano su il contenitore della bobina l'indicazione degli avvolgimenti con il pallino come abbiamo visto prima in questo caso di epcos che ha questo scatolino potremmo guardare come sono fatti gli avvolgimenti con un multimetro scopriremo che questi due pin fanno capo a un avvolgimento e questi altri due all'altro avvolgimento se guardiamo attentamente come sono avvolti vedete che da un pin parto e vado in senso orario di avvolgimento se guardo per così da quest'altra parte la situazione è esattamente opposta se parto da questo pin vedete che il verso è anti orario quindi per quello che abbiamo visto fino ad adesso questo ci fa capire che abbiamo i due avvolgimenti che sono avvolti in versi opposti sui due terminali di collegamento che fanno capo a fase e neutro questa è una bobina di modo comune ecco un'altra bobina commerciale sempre per riconoscere se è di modo comune la prendiamo così e ricordandoci questo disegno andiamo a vedere questo avvolgimento inizia da questo piedino parte così e quindi è in senso anti orario se lo guardo da questa parte quest'altro invece parte da questo piedino e se lo guardo così è avvolto in senso orario quindi vedete che sono in opposizione di fase e quindi è una bobina di modo comune bene e con questo termina il tutorial sulle bobine di modo comune come sempre se il video vi è stato utile o vi è piaciuto un bel pollice in su vi consiglio di rimanere asseragliati in laboratorio finché questa situazione non si risolve noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao